La macchina mi resta assoluto un pochino, ho fatto tutto il primo senza mai mettere quattro puliti E allora la macchina va bene ragazzi Alla verra devo fare uno spunto proprio perchè quando ho pestato durissimo che mi chiedevo, mi sono fatto durissimo, e che mi sei cibo e quando ho fatto dirlo, non c'è, non c'è, non c'è non c'è, non c'è, non c'è, non c'è che faccio, non c'è undślezano me controvi Eh beh André ma vittore alla costing sapevo dopo quello che doit fare per guardare